Ok, questo è quello che faccio per tenere da conto i miei deltoidi, la mia cuffia dei rotatori, eccetera, le mie spalle. Allora, innanzitutto mi piace andare in alto e fare con l'elastico queste cose. Allora, indietro 1, 2, 3, 4, mobilità delle spalle, 5, poi lateralmente 1, 2, 3, 4, 5, poi vado sotto un po', maltesi, 1, 2, 3, poi così, 1, 2, 3, 4, 5, poi all'altezza del petto vado e faccio la cuffia dei rotatori, l'esercizio del nuotatore, gomiti fermi, 1, 2, 3, 4, 5, il contrario, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vai, indietro così, mani in fianchi, 1, 2, gomito dietro la schiena, 3, 4, 5, poi abbassa ancora un po', bicipiti e sempre spalle, 1, 2, 3, 4, e allora.